hello hello quentinada di cioccolato quentinada di cioccolato c'è un certo quentinada di cioccolato questo è il gusto? una stessa magia per me grazie prego, accomodatevi è grosso buona di crema di lammai buona di crema di lammai buona di buona ce ne mai dai aici? truffe? 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 dobbiamo vedere che mi ha dato truffe? 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 sì, truffe cred c'è iau așa ceva ci ne duc să degustăm? per te? truffe? 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 o să mă duc să cumpăr ceva nu se mai poate truffe? Grazie a tutti.